Dedicato a Nissan QSky e X-Trail, Android 10, RAM 4GB, ROM 64GB, Apple CarPlay Wi-Fi, Android Auto, gestione vocale, apri la radio, traccia precedente, traccia successiva, fai partire la musica, apri film, attiva la navigazione. Apri YouTube. Apri la radio. Un defibrillatore sottocutaneo, lui 24 ore dopo il fatto che fuori dall'ospedale è andato a salutare. . . . . . Grazie a tutti.